La mia voce è di appoggiare tutto questo, cioè quei top e piani antici, ma non sono, insomma, che si sono messi a ragionare le banche come se fosse una missione politica, non dicendo le banche sono il principale motivo di sofferenza della società. Nessuno di questi le latinava per diventare ricco, per farsi le vacanze, le nostre che il champagne, cioè che in genere sono di distribuire chi ne aveva bisogno, che poi cazzo anche di sante bollasse, insomma, che arrivava con la cagliota di cose da mangiare, per partire poco a dove doveva. E guardate, insomma, cosa succede nei nostri giorni, cioè, miliardi di esseri umani fanno la vita dell'arma perché banchieri e speculatori hanno distrutto tutto il lavoro fatto da generazioni, cioè, io rimango super fatto, dicono perché non si parla mai delle cause, sì, crisi qua, crisi là, non ci sono soldi, ma perché non andiamo a vedere chi ha scatenato tutto questo?